Musica Buongiorno a tutti alla nuova edizione dello specchio della vanità Oggi sabato 23 giugno avremo questa splendida occasione di conoscere nuovi artisti, nuove artiste in ambiti diversi della creatività E qui questa mostra mercato dell'artigianato di qualità, il mondo magico ed affascinante della moda femminile E dell'accessorio nelle realizzazioni di diversi creativi Qua troviamo Marina Ares, Aromica Parfan, Giuseppina Calosso, Paola Galfione, Renata Libois, Maria Luisa Gambierasio, Gioga Glass, Lorenzo Patrucco, Elena Pernolandi, Mimi Petitti, Francesca Poli, Silvia Porino, Gisella Tamagno, Laura Elda Trombetta E quindi andiamo a scoprire queste magnifiche creazioni Siamo nei giardini di Casa Zuccala Adesso andiamo a scoprire quali sono le novità di questa nuova edizione dello specchio della vanità Andiamo Salve, mi chiamo Maria Luisa Gambierasio Sono un'insegnante di inglese in pensione Da quando sono in pensione ho potuto dedicarmi ai miei hobby Allora, soprattutto riciclo le cose Do una seconda vita alle cose Per esempio, questa torta è una torta finta Un tappo dell'acqua, un tappo del latte Un contenitore dello yogurt Uno della ricotta Un vasetto delle piante Attacco dei fiori E poi inserisco, a seconda delle occasioni e della persona a cui è dedicata Alcuni aforismi Allora, ne ho fatte per il compleanno delle amiche Ne ho fatte per un progetto europeo Per i quarant'anni di un'associazione dell'età verde E uso tutte quelle cose che le mie amiche invece di buttar via mi danno E poi ho ripreso a lavorare all'uncinetto Per esempio, queste collane Uso i cerchietti che ci sono nei tappi del latte e dell'acqua E li rivesto con lana, cotone Poi faccio gli orecchini sempre con questi tappi dell'acqua E poi invece una mia amica mi ha dato queste bellissime conchiglie Con la tecnica del decoupage Ho scelto dei tovaglioli con disegni particolari Con la colla a velo un po' pitturato Poi ho dato una vernice fissante Ed ecco questi medaglioni particolari Con l'uncinetto ho fatto queste collane La tecnica è una tecnica molto semplice E mi appassiona Allora, è la prima volta che metto in vendita I miei capolavori Perché di solito li regalo Ho amiche dappertutto nel mondo Alcuni sono andati a Taiwan Altri alle Canarie Mio figlio poi è mio grande cliente Perché ha molte amiche E mi chiede se ho qualcosa da dargli per le sue amiche Allora, faccio delle cose molto semplici Con un filato particolare Uso perline Oppure No, bottoni no Altro tipo di perle, lapislazzoli Oppure come all'uncinetto, ai ferri Riesco a fare queste collane Che questa ad esempio adesso è un po' invernale Ma è allegra Invito le signore, le amiche A dare una seconda vita alle cose Per esempio Non li ho portati perché erano ingombranti Ma con i collane Che non uso più E che le mie amiche non usano più Taglio Una tecnica particolare E faccio dei tappeti Quindi anche questa può essere una soluzione Perciò non buttate via le cose Ma pensate Con la vostra fantasia A creare qualcosa di nuovo A creare qualcosa di più 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 A creare qualcosa di più